E' un'estate d'inferno per la Puglia e non solo per il caldo soffocante che sta caratterizzando la stagione. A peggiorare la situazione ci sono i numerosi incendi che stanno funestando tutto il territorio regionale da oltre due mesi a questa parte. Sono più di 4.500 i roghi registrati dalla metà di giugno alla metà di agosto dal Gargano al Salento. Un numero spaventoso che fa di quest'estate 2021 una delle peggiori in assoluto per il patrimonio naturalistico pugliese. A lanciare l'allarme è l'associazione Coldiretti che sulla base della mappa attiva del fuoco GAMAP, servizio offerto e prodotto dalla NASA con i dati raccolti dai satelliti, ha messo a punto un report relativo agli incendi divampati nella regione. Il dossier evidenzia che sono 47 i roghi attualmente attivi in Puglia, di cui ben 22 nella provincia di Foggia, 5 nel Salento, 4 nel Barese e 3 rispettivamente nelle province di Taranto e Brindisi. Tra i focolai ancora attivi, più pericolosi, quello del Monte Cornacchia, dove sono già andati in fumo circa 40 ettari di vegetazione negli ultimi due giorni, e quello in località Monte Diavolo, nel territorio di Manduria. Vigili del fuoco, volontari della protezione civile e personale dell'ARIF sono al lavoro per spegnere le fiamme, come è accaduto per gli altri grandi fuochi estivi divampati e molto spesso volontariamente appiccati nella regione. È il caso dell'incendio scoppiato nel Bosco di Difesa Grande e Gravina in Puglia, oppure quello che ha l'ambito un'area boschiva nei pressi di Modugno o ancora quello che ha interessato la murgia barese a ridosso di Altamura. A pagare il prezzo più alto è il patrimonio naturale, con centinaia di ettari di boschi distrutti dalle fiamme. Per questo, fa sapere col diretti, servono interventi massicci, attuabili anche con i fondi del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, così come è fortemente auspicabile l'attivazione immediata delle misure previste dal PSR, il Piano di Sviluppo Rurale. È inoltre necessario, sottolinea l'Associazione, un rapido intervento della regione che, con il coordinamento del Ministero delle Politiche Agricole, dovrà provvedere quanto prima ad una ricognizione dei danni e all'individuazione delle aree colpite con il ristoro delle perdite subite dagli agricoltori e dagli allevatori, che, in molti casi, rischiano di non poter più proseguire la loro attività.